Salve amici del Centrometro Italiano, continua il dominio incontrastato dell'alta pressione in Italia, vediamo allora nel dettaglio le previsioni per mercoledì 23 agosto. Al mattino cieli del tutto soleggiati da nord a sud e al pomeriggio instabilità in aumento su Alpi ed Appennino Meridionale, con rovesci temporali e nessuna variazione altrove. In serata è notata tempo in generale miglioramento, con cieli sereni o poco nuvolosi, temperature minime e massime generalmente stazionarie. Per ulteriori dettagli seguite come sempre le previsioni aggiornate sia del nostro sito che sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centrometro Italiano. Grazie. Grazie.